Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Yannick Sinner ha un passo dal coronare il sogno di una vita, la finale dello Stati Uniti Open. Dopo aver superato un periodo difficile, che lo ha visto coinvolto in un caso di doping da cui è stato scagionato, l'Azzurro si prepara ad affrontare la semifinale contro il britannico Jack Draper. Il giovane campione, ora più determinato che mai, sta vivendo un momento d'oro sia sul campo che nella vita privata. La sua fidanzata, la tennista russa Anna Kalinskaya, è stata avvistata sugli spalti durante i quarti di finale, smettendo così i rumor di una rottura tra i due. Sinner ha dimostrato di essere in forma smagliante, eliminando senza troppi problemi i suoi avversari nelle fasi precedenti del torneo. Ma ora, il britannico Jack Draper rappresenta l'ultimo ostacolo prima di un eventuale finale, dove ad attenderlo ci sarebbe il vincitore del derby statunitense tra Fritz e Tiafoe. Ma prima di continuare, aspetta un attimo. Ti piace il video? Iscriviti, attiva le notifiche, metti un mi piace e lascia un commento. Il tuo supporto per me è prezioso. Tornando alla partita, l'incontro tra Sinner e Draper si preannuncia carico di tensione. Da un lato, l'azzurro punta a conquistare la sua prima finale in uno slam, mentre dall'altro il giovane Draper non è da sottovalutare, con il suo potente servizio e il gioco aggressivo che potrebbero mettere in difficoltà l'altoatesino. Nonostante Draper non parta come favorito, il tennis ci ha insegnato che non esistono partite già vinte, specialmente in uno slam così imprevedibile come lo Stati Uniti Open. Gli appassionati di tennis di tutto il mondo si preparano a seguire questo match con il fiato sospeso, mentre la pressione su Sinner cresce. Ma l'azzurro ha già dimostrato di saper gestire momenti come questi. L'appuntamento con la semifinale è imperdibile e tutti si chiedono se Yannick riuscirà a scrivere un nuovo capitolo di storia del tennis italiano. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.